Dare il 15% delle acque interne in concessione alle associazioni di pescatori per le attività di pesca dilettantistica e quanto prevede la legge sulla gestione delle risorse ittiche e sulla regolamentazione della pesca nelle acque interne, approvata a maggioranza dall'Aula Consiliare dopo un dibattito acceso e una sospensione per mancanza di numero legale. Ad illustrare l'atto il vicepresidente della Commissione Sviluppo Economico, Mario Puppa. La legge vigente già esaltava una grande collaborazione con le associazioni sportive di pesca dilettantistica. Noi abbiamo voluto fare un passo avanti proponendo la possibilità alle associazioni di poter avere in concessione dei tratti di torrenti o fiume per valorizzarli al meglio, attrezzandoli, facendo in modo che siano popolati da fauna autottona e anche in modo tale che diventino anche veri e propri punti di attrazione turistica. In questo modo cercheremo, attraverso un emendamento che è stato approvato in Commissione e che abbiamo concordato anche con le associazioni di pescatori, intanto delimitato il margine da un 100%, l'abbiamo portato al 15%. Quindi i tratti in Toscana in via sperimentale saranno il 15% del totale. Saranno, diciamo così, interessati da un bando che sarà gestito dagli uffici della Ciunta e che avrà un titolo gratuito, ma impegnerà le associazioni dilettantistiche della pesca ad apportare, diciamo, attraverso un progetto vero e proprio di valorizzazione del valore aggiunto in questi tratti. Poi, attraverso un altro emendamento che abbiamo inserito proprio all'interno della Commissione approvato in Consiglio, abbiamo previsto la gratuità di alcuni soggetti rispetto al pagamento di un eventuale, diciamo, permesso aggiuntivo rispetto alla licenza della pesca e che sono i ragazzi sotto i 12 anni, i portatori di handicap e gli over 70. In questo modo vogliamo anche dare un segnale rispetto a una possibile, diciamo, maggiore fruizione, diciamo, di questi tratti di fiume da persone che hanno, diciamo, un pochino più di difficoltà nell'avere, diciamo, accesso ai permessi di pesca. 22 i voti favorevoli, 13 i contrari dal centro-destra, forti critiche alla legge che, dicono, non tiene conto delle parere della gran parte delle associazioni. Credo che sia una legge fatta ad hoc per una promessa mantenuta dall'assessore Saccardi dal Presidente Gianni, e non lo dico io, lo dicono delle loro dichiarazioni in una conferenza stampa di circa un anno fa, dove dicevano promessa mantenuta ad una singola associazione. Tutte le associazioni, le altre associazioni di pesca, sono indignate. È veramente una cosa impensabile che chi fa pesca, un'attività sportiva, una passione, debba pagare il tesserino, più debba pagare a un'associazione la possibilità di poter pescare in un tratto di fiume. Non è pensabile che si dica, come loro hanno provato a dire, i fiumi saranno così controllati e puliti, perché non si parla di, diciamo, collocazione di un fiume intero, ma di piccoli tratti. Quindi il fiume sarà comunque, nelle altre parti, non presi in considerazione dalle associazioni, sarà comunque tenuto male, come purtroppo lo è, ne sono tutt'oggi tutti i fiumi della Toscana. E quindi non si risolverà il problema di rischio idrogeologico, non si risolveranno i problemi ambientali, quindi non ci possiamo attaccare a questo. Credo che questa proposta di legge non avrà un corso facile, non sarà facile individuare quel famoso 15% di tratti che verranno dati in concessione, non sarà facile capire quale sarà e come verranno assegnati a chi con quali criteri di valutazione. Quindi credo che questa legge, per quanto mi riguarda, sarà morta sul nascere. Perché il PD ha fatto molta confusione. Ci sono alcune associazioni nazionali che sono tendenzialmente favorevoli rispetto a questa proposta, altre più locali che invece temono una privatizzazione dei corsi d'acqua. Alla fine, nel dubbio, il PD ha presentato un emendamento che restringe al 15% il totale delle acque interne che si possono concedere in uso alle associazioni, ma non si è capito dove vengano individuate né con quali criteri. Per cui può essere che in una provincia tutte le acque o la gran parte delle acque cadano in concessione e automaticamente tutte le altre no. Quindi avevamo posto a queste altre questioni, anche legate per esempio alle necessità di iscriversi ad un'associazione per andare a esercitare la pesca. Magari un'associazione che esprime indirizzi ideali che un soggetto non condivide, pertanto non abbiamo ritenuto di esprimere un voto perché ci sembrava doveroso tornare in commissione e chiarire questi punti, perché l'esercizio della pesca è regolamentato ad oggi per legge, si può anche capire la volontà di migliorare, perché poi c'è un problema di fauna ittica e di conservazione del patrimonio ambientale e autoctono rispetto a specie che vengono dall'esterno, ma naturalmente questo va fatto rispettando i diritti di tutti. A noi non ci è sembrato che questa legge fosse ancora sufficientemente sviluppata per farlo e quindi abbiamo ritenuto di esprimere non voto e ci riserviamo naturalmente di valutare insieme alle associazioni ulteriori proposte di modifica. Sul tema del mancato coinvolgimento delle associazioni interviene anche il Movimento 5 Stelle. Per Italia Viva invece la legge dà spazi importanti di partecipazione. Scatto in avanti, una proposta, un impegno assunto e preso e mantenuto che consente alle associazioni di poter gestire dietro una concessione che appunto la Regione può concedere delle acque interne per un uso direttantistico della pesca. Quindi le associazioni avranno una opportunità nuova dentro dei limiti previsti dalla normativa che consentirà loro di autodeterminarsi e soprattutto di svolgere un'attività controllata nel contempo diciamo dentro i limiti che appunto la stessa legge prevede. Quindi una cosa positiva che non limita diciamo l'iniziativa singola ma che tutela anche le forme associativi che a loro volta promuovono l'attività della pesca direttantistica. C'è una grande paura del futuro da parte dei giovani adulti ovvero quella fascia di popolazione che va dai 20 ai 30 anni. Paura del futuro circa il 50% ma anche paura dell'abbandono e dell'isolamento e paura anche del presente. Ecco ciò che emerge dall'ultimo studio che l'Ordine degli Psicologi della Toscana ha condotto tra i suoi iscritti in collaborazione con il laboratorio di psicometria per indagare lo stato di salute psicologica dei Toscani nel corso dell'ultimo anno. Questi giovani, questi nostri giovani hanno molta paura a affrontare questo mondo del resto è un mondo fatto purtroppo dopo gli strascichi del Covid anche di guerra, anche di cambiamenti climatici anche di difficoltà a trovare alloggi quando si esce fuori di casa insomma è una precarietà che sta diventando cronica e la paura è molto frequente e costante e rilevata dai nostri studi. La paura della guerra invece è stata rintracciata di più nei bambini. Il dato importante da sottolineare è come il disagio psicologico che si è evidenziato è un disagio che va analizzato in contesti diversi perché emerge un disagio nell'ambito scolastico ma anche nel contesto lavorativo e come quindi sia importante anche focalizzarsi su interventi e siano mirati quindi per gli specifici contesti ma anche soprattutto per fasce d'età perché si evidenza appunto un disagio, paure, sintomatologie che sono diverse per le fasce d'età e quindi questo chiaramente per poi pensare a interventi bisogna metterli appunto proprio mirati per contesti specifici e per specifiche fasce d'età. Per questo la regione toscana è stata tra le prime a chiedere di investire nella figura dello psicologo di base. Ridescrive un trend che noi già con la pandemia abbiamo individuato già i dati allora erano ovviamente assolutamente allarmanti e continuano ad essere preoccupanti tipo di ansie, di fobie i bisogni di assistenza psicologica sono importanti e quindi da parte nostra come Consiglio regionale quello che abbiamo già detto a partire dagli Stati Generali della Salute è che quando si stanno costruendo le case di comunità quindi il servizio territoriale dobbiamo considerare la competenza psicologica come una competenza essenziale così come quella dell'assistente sociale e del medico di base e abbiamo fatto appunto quella legge, la legge dello psicologo di base perché la Toscana si caratterizzasse fin da subito con questo elemento in tutta Italia si costruiscono case di comunità noi le vogliamo già con quella competenza psicologica e penso che sia questo l'indirizzo più forte che abbiamo dato alla Giunta rispetto a un atto che è quello della costruzione dei servizi territoriali che è in corso in tutta Italia e che quindi comunque anche la Toscana deve adempiere. Noi abbiamo voluto per primi approvare una legge che istituisce la figura dello psicologo di base una legge che dobbiamo finanziare, finanziare ancora di più e meglio questa è una legge di civiltà tanto che altre regioni italiane hanno seguito la nostra proposta perché la salute mentale è importante quanto la salute fisica ce lo dice purtroppo questi risultati ci dicono che la pandemia, la guerra ma anche l'utilizzo dei social network purtroppo influiscono tanto sulla vita delle ragazze e dei ragazzi siccome il nostro obiettivo è costruire dei cittadini del futuro che siano cittadini con una capacità di saper leggere il presente in maniera più critica dobbiamo costruire tutte le condizioni perché davvero tutto questo sia possibile L'Aula approva maggioranza il bilancio di esercizio 2022 per l'ente parco regionale della Maremma nel conto economico il valore della produzione si attesta a 2.368.000 euro come contributo dalla regione toscana arriva a circa 1.500.000 euro pari alla 61% della produzione riguardo ai ricavi provenienti da ingressi, visite e attività del negozio si attestano a 497.000 euro in calo rispetto all'anno precedente un calo dovuto agli effetti post pandemia con una diminuzione degli ingressi e a causa del blocco della cattura degli animali per gli effetti della peste suina L'ente parco della Maremma si conferma una bella realtà un ente che ha un bilancio positivo anche se è stato un pochino inferiore rispetto ai momenti del covid dove le persone erano ancora di più sul nostro territorio però il bilancio è positivo non soltanto dal punto di vista economico ma è positivo anche la programmazione che si pensa di fare all'interno del parco ente della Maremma quindi una splendida realtà che deve andare avanti e devo dire che oggi la discussione in aula diciamo che ha portato delle lodi anche da parte dell'opposizione per come si pone, per come è attrezzato e per quali sono anche i programmi di ampliamento sulla sentieristica che c'è all'interno del parco La comunità del parco composta dai sindaci di Grosseto, Erbetello, Magliano in Toscana e dalla Presidente della provincia di Grosseto non ha espresso il parere così come è previsto da normativa regionale mentre il Collegio dei Revisori ha dato parere favorevole come detto passa con il voto della maggioranza a stenzione dei gruppi di centrodestra contrario il Movimento 5 Stelle Su Co della Maremma noi abbiamo voluto dare un segnale positivo siamo stati come commissione a visitare quella struttura abbiamo parlato con chi dirige il parco alla presenza anche degli amministratori locali che si trovano bene con questo ente che è discretamente gestito infatti da un punto di vista di risultati positivi c'è la tenuta dei conti, il rispetto dei tempi ci sono però anche alcune ombre legate per esempio alla mancanza di personale sufficiente questo ci è stato detto dagli soggetti che gestiscono il parco così come una mancanza di monitoraggio continuo della spesa per cui ci sono degli sfasamenti all'interno della gestione che sono stati segnalati dagli organi di controllo rispetto alla media di come vengono gestiti i parchi comunque in Toscana ci aspettiamo che si riesca ancora a migliorare magari aumentando della richiesta che abbiamo fatto la valorizzazione promozionale, il brand la capacità cioè di stare sul mercato legando la funzione di conservazione naturale alla promozione sia nei confronti dei ragazzi che alla conoscenza dell'immenso patrimonio naturale della Toscana abbiamo verificato che intanto c'è un bilancio in positivo seppur forse da un certo punto di vista quasi troppo in positivo e quando c'è un bilancio molto in positivo di solito come abbiamo rilevato c'è anche un problema di programmazione però il Presidente del parco ci ha rassicurato da questo punto di vista che così non è è una situazione un po' eccezionale di questo anno e quindi anche la gestione delle risorse tornerà ad essere programmata in modo ottimale quello che ci ha invece posto qualche dubbio è il fatto che non c'è stato abbiamo verificato il voto della comunità del parco cioè la comunità del parco non si è espressa anche qui il Presidente ha dato delle rassicurazioni facendo notare che è prassi come dire non intervenire però sotto questo profilo riteniamo che invece sarebbe utile che la comunità del parco esprimesse e esercitasse quello che è il suo ruolo anche perché si potrebbe pensare eventualmente anche ha una carenza di ruolo politico cosa che il Presidente ci ha escluso evidenziato questo però oggettivamente l'approccio è diverso da quello che troviamo negli altri parchi e il voto della Lega è stato un voto di astensione è una persona che è rimasta veramente legata al nostro territorio questa è la soddisfazione di avere la possibilità di avere una grande campionessa a livello mondiale e quindi oggi questo riconoscimento e questa festa è un abbraccio da parte mia la possibilità di riconoscerle tutti i meriti da parte della regione toscana una targa per i prestigiosi risultati sportivi raggiunti nelle competizioni internazionali di scherma a consegnarla ad Alice Volpi giovane campionessa senese oro nel fioretto individuale e a squadre ai mondiali di Milano di quest'anno il Vice Presidente del Consiglio regionale tenacia, forza, costanza e anche il sorriso dice Scaramelli quello che caratterizza Alice Volpi sì, torno veramente spesso è un posto dove riesco a staccare a rivedere i miei amici a fare passeggiate in campagna quindi è sempre nel mio cuore Ponte d'Arbia quest'anno festeggiamo festeggiamo questo mondiale è una bellissima serata dopo i mondiali, vacanze finite è già tempo di allenamento sono già la quinta settimana di allenamento e lunedì inizieremo un ritiro a Chianciano Terme quindi qua vicino in vista della gara di dicembre la consegna della targa nel corso di una cena di beneficenza che si è svolta alla Casa del Popolo di Monteroni d'Arbia assieme al Vice Presidente del Consiglio regionale le consigliere regionali Elena Rosignoli ed Anna Paris ed il Sindaco di Monteroni d'Arbia è una serata di festa appunto è sempre un piacere accogliere Alice e ci fa anche questo regalo è un'occasione anche come dire di ritrovo di unità di tutta la comunità che attorno a lei insomma si unisce a lei per festeggiare i suoi successi sportivi che secondo me sono anche la dimostrazione di come nella vita partendo da un piccolo paese di provincia quindi dalla periferia con talento ma anche capacità determinazione, impegno e voglia di fare si possono raggiungere risultati importanti grazie a tutti